Grazie a qualcuno in particolare che mi ha seguito prima dell'evento. Questo è sound design, evidentemente, quello che sentite. Questo è interattivo perché parti a piacere. Intanto, prima di iniziare, mi hanno chiesto di fare un video con qualcosa che in qualche modo mi rappresentasse e credo di dire una cosa che vale per tutti. È veramente difficile fare qualcosa che ci rappresenti perché evidentemente siamo tutte persone con interessi larghi. Poco fa parlavamo di dottorati di ricerca con Igor per non parlare di tutti gli altri discorsi fatti con altri. Quindi si passa da un argomento all'altro con una trasversalità importante e quindi una larghezza di competenze importante. Abbiamo sentito un sacco di interventi, forse tutti gli interventi ad altissima risoluzione tecnica con una forte componente artistica e questi due mondi che in qualche modo ci contraddistinguono. Sì, abbiamo questa componente artistica che ci rende particolarmente estrovessi, estrosi, ma poi la parte ingegneristica di noi ci serve perché altrimenti rischiamo di non concretizzare quello che è il lavoro e diciamolo pure. Forse siamo le persone più fortunate al mondo perché facciamo quello che ci piace. Sì, poi qualcuno dice dopo un po' di tempo magari mi annoio perché diventa ciclico. Ricordiamoci però il punto di partenza. Il punto di partenza era quello che diceva Lorenzo mi hanno rifiutato, mi hanno dato i curriculum, non mi volevano. Poi invece ti annoi del fatto che stai lavorando in una struttura molto importante e magari perdi di vista quanto è importante il tuo ruolo nella società, se vogliamo. Io ho una fortuna, fra le tante, quella di avere una componente molto imponente del mio lavoro che è quella legata alla didattica. Dicevano prima, io coordino un master in tecnologia e arti del suono e uno in music composition e sound design per cinema e videogame, otto corsi di formazione all'università e poi da quattro anni a questa parte sono anche direttore del dipartimento music composition e sound design per cinema e videogame della scuola internazionale di comics. Cito questa struttura perché in realtà io venendo qui oggi ho fatto una chiacchierata con tutte le istituzioni che si occupano di tecnologia a livello industriale e didattica nel mondo delle tecnologie musicali e sonore. Il ragionamento che ho fatto loro aveva una finalità, perdonate un po' di tosse, come Lorenzo ha scoperto prima. Questa giornata di oggi è davvero importante per tutti voi e tutti noi perché in qualche modo è la prima volta che in Italia si mette un sigillo su una cosa. Siamo tutti d'accordo che siamo sempre stati visti come l'ultimo carro dal punto di vista del sound design e della music composition per videogame. Ecco, anzi, seconda considerazione. Siamo tutti d'accordo che l'eccellenza e quindi il talento italiano è riconosciuto in tutto il mondo. Adesso è bene che lo si sappia per bene anche a casa nostra. Certo, le esperienze all'estero sono fondamentali, le realtà industriali dell'estero sono fondamentali, ma credo sia arrivato il momento che in questa giornata qualcuno dica in maniera così aperta che probabilmente grazie a questa struttura che ha organizzato tutto questo, che è una struttura didattica d'eccellenza per l'Italia, tutto ciò è stato possibile. Io ovviamente sono stato invitato, quindi ho seguito in parte le dinamiche organizzative con tutti i problemi che possono esserci, no? Ed è proprio per questo, dal ruolo di organizzatore di attività accademiche, oltre che didattiche, quindi in un ateneo pubblico è ancora più complicato pensare di organizzare alcune cose, personalmente vi chiederei di fare un applauso alla Loud College perché ha fatto questa giornata di oggi. Quindi un applauso a loro, io lo farei. Era doverosa questa cosa, eh? Ultima piccola nota, e mi sento di farla perché io non conoscevo prima Igor, conoscevo molto bene Federico, ho conosciuto lui in qualche modo per interfacciarci per l'organizzazione delle talk e secondo me ha fatto un lavoro molto abile di differenziazione degli argomenti, che in questi casi non è mai la cosa semplice, perché ciascuno vuole fare qualcosa, perché magari lo sente più suo, e lui secondo me ha gestito questa cosa in una maniera impeccabile perché ha fatto sì che tutti gli interventi avessero un filo comune, ma tutti diversi fra loro. A me è toccata la patata bollente un po' più tecnica, un po' più rognosa, ma questo mi fa piacere perché io oggi sono qui per mostrarvi qualche tecnologia, quindi una cosa un po' più pratica, meno romantica degli interventi vostri, devo essere onesto perché sono stati straordinariamente romantici, ecco, quell'equilibrio fra la parte romantica del nostro lavoro e quella tecnica, che secondo me è fondamentale, una parte anche pragmatica sul futuro lavorativo che ho sentito all'inizio, era doverosa e secondo me utile a tutti voi, anche perché conosco un po' di persone in questa platea, e chi più chi meno abbiamo tutti più o meno la stessa provenienza, o si viene dal mondo discografico, o si è musicisti, o si è sound engineer, o si è addirittura tecnici del suono in alcuni casi, ma in qualche modo tutti stiamo puntando alla creazione di contenuti di nuova generazione, quindi tutto quello che riguarda, se vogliamo, la cinematica da un lato e il non lineare dall'altro, ok? Anche se poi sulla questione non lineare ci sarebbe da discutere, perché è un uso un po' improprio di questa parola, però va bene, si è lamentato. Ok, basta, ecco la tecnologia. A questo punto direi che è arrivato il momento, intanto di far partire questo video, che Federico mi ha costretto a fare. Abbiamo l'altro microfono, quello, così, nel frattempo che va il video. Tra l'altro, piccola nota, visto che ho iniziato a parlare prima, in una parte del video ci sarà una cosa interessante, lo dicevo prima a Federico durante il pranzo, per la prima volta un editore importante nazionale di carta stampata ha deciso di produrre un videogame. Tac! Perché voleva in qualche modo spingere il marchio del proprio giornale, lo ha fatto su un territorio ristretto come test, che è quello del Lazio. quindi vedrete una piccola parte del video dedicata a un giochino mobile in romanesco. Ok? Tema alcol e sport. Ok? Ok? Lui è già acceso? Eccolo lì. Grazie, grazie. In realtà, come dicevo prima, è sempre difficile fare qualcosa che pensiamo possa rappresentarci. è veramente difficile tenere a freno le nostre passioni, come diceva prima Lorenzo. Vediamo una cosa, ci incattiviamo su quella cosa, vogliamo saperne sempre di più. E questa cosa io l'ho sempre avuta e oggi mi ritrovo in una condizione in cui davvero faccio fatica a trovare quei cinque secondi di cui si parlava, ma mi forzo a trovarli perché poi devo fare qualcosa di nuovo, sennò entro in un loop per cui anche le cose che faccio quotidianamente diventano noiosi, nonostante magari gli altri le vedano come bellissime. Ecco, il mio talk di oggi breve sarà su tecnologie musicali e sonore attuali e quello che succederà. Alcune cose posso mostrarvele. Prima si diceva rappresento queste strutture didattiche, ma soprattutto rappresento questa realtà che sta crescendo in una maniera importante, che mi permette di interagire con moltissime aziende per quello che sarà lo sviluppo futuro. Noi nel nostro Ateneo abbiamo un laboratorio di ricerca sul suono che collabora con tutte le realtà, quasi tutte le realtà, legate alle tecnologie musicali e quindi questo ci permette di avere un ruolo anche in qualche modo creativo all'interno di molte tecnologie che poi usiamo quotidianamente e oggi ne vedremo qualcuna, ad esempio. Ok, il mondo è cambiato. Ci siamo, siamo tutti d'accordo su questo, perché io provengo da un mondo discografico in gioventù. Lavoravo negli studi di registrazione, facevo il musicista, bla 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 bla, le cose che più o meno accomunano molti di noi o quasi tutti noi. Però poi gli interessi cambiano e guarda caso cambia anche il mondo lavorativo, perché siamo anche, immagino saremo tutti d'accordo, sul fatto che la discografia attraverso un leggero periodo di crisi, indefinito, mettiamola così. Ok. I percorsi formativi in Italia hanno delle difficoltà evidenti, o le avevano, decidete voi. Fate un giro. Per fortuna io da alcuni anni ho questo ruolo di coordinamento, quindi ho la possibilità di modificare questi percorsi formativi, tant'è che nelle nostre attività c'è WISE, c'è Unreal Engine, quindi ci sono le partnership sia con Audio Kinetic che con Epic e poi scopriremo anche il resto dei marchi progressivamente. Bene. Il mondo è cambiato. Cubase. Il mondo è cambiato. Grazie a tutti Grazie a tutti Ci piace manipolarlo, amiamo la musica, amiamo il suono, siamo feticisti di queste cose, lo sappiamo tutti, tu in particolare. Allora, evidentemente i nostri interessi cambiano costantemente. Evolviamo costantemente. Oggi ho sentito delle talk che mi hanno arricchito umanamente, professionalmente, anche nel rapporto romantico con quello che facciamo quotidianamente. Anche perché vorrei riprendere un discorso fatto almeno due o tre volte oggi. I nostri desideri sono una cosa, le cose concretizzabili sono evidentemente un'altra cosa. Dico questo non per una visione romantica, perché il costo computazionale, scusate la parolaccia ma è la parola più giusta, il costo computazionale delle cose che facciamo incide sul risultato finale. Non possiamo pensare di usare metà delle risorse di una console per far girare solo l'audio. Sarebbe bellissimo per noi, ma solo per noi. È chiaro che un'azienda dovrà fare in qualche modo quadrare tutto, anche il bilancio computazionale. No, prima si parlava di gestione delle risorse, quello è. Volevamo fare dieci, abbiamo fatto quattro. È già andata bene nella mia esperienza. In questi giorni, io sono qui, il mio team sta lavorando a venti puntate di una serie tv Disney, che va consegnata ancora prima che arrivi il file we transfer delle puntate. Ok? È così, c'è poco da fare. Non ce n'è. Vero è che la nostra esperienza è più imponente sul lineare, ma perché in Italia c'è più mercato da quel punto di vista. In realtà, come dicevo prima, molti player, adesso, nell'ambito soprattutto editoriale largo, stanno guardando al mondo dei videogame e ancora di più della realtà virtuale. Richiesta che in passato non ho mai avuto, onestamente. Stiamo parlando di una struttura imponente per l'Italia. Fra un po' vedremo anche, ho fatto un video, ho fatto preparare un video, un estratto di quello che è uno scenario navigabile con quei sistemi lì. E a proposito, poi provateli, perché è importante anche vivere quel tipo di esperienze, perché il mondo sta andando di là. Ok, dicevo, l'implementazione delle competenze è sempre una linea di equilibrio fra arte, ingegneria e metodo. Ricordiamoci, il metodo, vero è che non dobbiamo mai standardizzarci su un metodo ben specifico, anche perché le variabili sono talmente tante che tutti i giorni cambiamo il nostro metodo. Ma il metodo ci serve quando non abbiamo tempo, quando non abbiamo ispirazione. Metodo si produce. Poi, se hai anche l'ispirazione, fai l'opera d'arte. Ok? Questo è un ragionamento che secondo me va fatto. Ok. Parliamo un secondo del mondo non lineare. Personalmente ho sposato la causa di Audio Kinetic, ok? Di Wise. Quindi, nei percorsi che gestisco, nei team che gestisco, in realtà ne ho un po', poi se volete, oggi non c'è il tempo, ma se volete potete farmi qualsiasi tipo di domanda anche su queste cose, perché ho un team produttivo, che sono quelli che in questo momento stanno lavorando una serie di TV Disney, ma parte del team è dirottata verso altri contenuti non lineari. Noi usiamo Unreal Engine, non per la creazione dei contenuti in toto, perché chiaramente avendo noi una struttura produttiva nel mondo del suono e della musica, non realizziamo i contenuti visivi. Però da noi è necessario che ci sia competenza su Unreal per l'integrazione, perché al di là di alcuni studi, che addirittura alcuni scavalcano i middleware per una serie di motivi anche ragionevoli, molto spesso, alcune competenze servono. Quando voi imparate ad usare Wise, che già di per sé è un percorso formativo importante, è un'implementazione importante, dovete imparare a relazionarvi con Unreal necessariamente, o Unity personalmente suggerisco Unreal, perché mandare prodotti o interfacciarsi con un pacchetto di prodotti che poi non funzionano per mille variabili che noi tutti sappiamo, non è una gran bella figura. Oltre che ritarda il processo produttivo e le aziende, soprattutto i player importanti, non amano essere in ritardo, anche perché lo sono di default. Immagino che chi fa il nostro mestiere lo sappia bene. Quindi diminuire i rischi comporta talvolta aumentare delle competenze anche in maniera trasversale. A parte che vi dico che Unreal è una figata, è come una droga quando ci mettete le manine. Ve lo dico, fatelo, perché è fondamentale. Piccola, ad alzata di mano come diceva qualcuno oggi, quanti di voi hanno messo le mani su Unreal Engine? Vi voglio bene, vi voglio bene. No, no, vergogna. Ok, la riscoperta della professionalizzazione, ragazzi, è fondamentale. Chi ha la nostra estrazione ha visto spesso persone improvvisarsi. E questo non è un mondo in cui ti può improvvisare. Devi fare tanta gavetta, devi studiare, che poi sia in autonomia con altri, non è importante. Ma l'esperienza ci vuole, se no non sei spendibile. E finché non sei spendibile, chiaramente rimani nella tua cameretta. Ok, tac, iniziamo la parte un po' più simpatica. Ok? Questo è quello che vi aspetta nei prossimi anni. Il 2020 uscirà un nuovo plug-in. Ho invitato i miei colleghi, anzi alcuni non c'erano al tavolo del pranzo. Lo faccio ufficialmente. A gennaio, dicevamo con Federico a Roma, avrò il piacere di invitarvi, se vi va, o a febbraio quando sarà, a fare un salto a Roma e facciamo una piccola sessioncina chiusa in cui vi mostro in anteprima questa roba, che uscirà poi entro il 2020. L'obiettivo è, per tutte e tre le strutture, con situazioni diverse, iniziare a generare la possibilità di abbinare ai materiali, quindi alle texture e ai materiali di Unreal, che prevedano una serie di metadati, ossia il livello di riflettanza, il livello di assorbimento, questo permette in modo procedurale di generare riverberazione, perché la stanza suona realmente, non per volumetria, ma per interazione fisica. Questo significa insistere un po' di più sulla CPU, ma lasciare molto spazio da altre parti. Poi, è l'unica strada? No, dipende dal progetto che abbiamo, ma sarà un superpotere in più che avremo. E questo è interessante. Anche perché, nel momento in cui noi attraversiamo un corridoio con delle porte aperte, immaginate quello che succede quando c'è il filtro della camera di fianco, che è la cosa più banale che noi riusciamo a fare velocemente. Questo però è implementato in una maniera particolarmente importante, perché all'interno della stessa sala io otterrò non soltanto il movimento di HRTF, quindi quando mi giro ascolterò il rumore in maniera differente, o il fondo in maniera differente, ascolterò anche come suona la stanza in maniera differente e realistica. Perché questo è importante? Perché noi non ascoltiamo, noi interpretiamo. A noi arrivano dei messaggi fisici, questi messaggi fisici, è vero, noi impropriamente tutti noi diciamo l'orecchio, c'entra in parte l'orecchio, perché poi l'orecchio prende le informazioni fisiche e il sistema percettivo che le filtra. Qui entriamo, mi duole dirlo per una serie di motivi, ma entriamo nella fenomenologia percettiva. E ci sono studi che partono dagli anni 50 su questa cosa, su questo filone. Eppure non vengono utilizzati, e credetemi, la fanno tanto la differenza. Se avete avuto modo di sentire per chi era prevalentemente al centro, in alcuni dei prodotti che avete sentito c'era dell'HRTF. E c'era in maniera subdola, perché un altro approccio forse poco approfondito che noi abbiamo è quello di pensare al suono quasi esclusivamente, anzi i sound designer meno, però i musicisti quasi sempre in maniera piatta. Intanto è tridimensionale evidentemente, il concetto di soundbox ormai per fortuna è abbastanza avviato. Ma non esiste solo quello. Esiste intanto il movimento degli oggetti, che genera spazio da altre parti, esistono i mascheramenti che modificano la percezione di alcuni suoni, sia in termini frequenziali che in termini di gestione dello spazio, e soprattutto esiste la parte alta e la parte bassa. Poco fa, finalmente, sentivo qualcuno che diceva leviamo la zona medio alta perché così si genera meno confusione. Giusto! Perché in realtà tu stai parlando non con il gusto della persona, ma col sistema percettivo dell'ascoltatore. Se lo stressi nelle zone più complesse da gestire, per il sistema percettivo, soffrirà. E otterremmo lo stesso identico risultato di quando mandiamo musica a palla. Non c'è dinamica, risultato, sarà tutto piatto. Non ci sarà la parte imponente e la parte di quiete. Cinque minuti? Vado velocissimo. Allora, detto questo, ci sarebbe un miliardo di cose da dire su questo aspetto. Quindi, vado veloce alla parte un po' più tecnica. Ok, questo è il video di cui vi parlavo. Lo faccio veloce e poi vediamo un po' questi oggettini. Oggettini. Ok, evidentemente l'ultima parte era quella legata alle date, le cose le ho fatte levare perché tanto non servivano più. Ok, parliamo di un segmento di lavoro molto importante. Lo sviluppo delle nuove tecnologie e il supporto allo sviluppo, che più prevalentemente è quello che mi riguarda. Cioè io collaboro con una serie di aziende, queste sono quelle, diciamo, principali con cui oggi speravo di riuscire a interagire con alcune loro tecnologie, ma non fa niente, avremo tempo e modo, non c'è problema. Tutte queste strutture si avvalgono di professionisti esterni che diano un feedback. Come prima si diceva, noi con il nostro studio abbiamo dato una grossa mano al fixing. Parliamo di questi giocattoli di qui un secondo. Questo, questa è la Seaboard Rise, che immagino tutti voi conosciate. È uno strumento multidimensionale e multiespressivo. Ok? Questa è la chiave di volta dei sound designer. Bisogna comprenderla questa cosa. Ok? Vado velocissimo. Questo è un altro modellino uscito di recente, che ha una grande, a parte un costo veramente basso, ma ha un vantaggio enorme. È modulare. Voi li avvicinate, quelli si attaccano per prossimità. Lui è, ad esempio, il lightpad. Poi, chi di voi vuole può farmi qualsiasi domanda. Il prossimo anno uscirà la Lumi, che è stata mostrata come prototipo da qualche mese in un evento importante. Ed è questa. Esco un attimo da qui. Cambierà il volto della didattica questo aggeggino qua. Diciamo che le nostre compagne non saranno molto felici. Mettiamola così. Ok. Eh sì, eh sì, eh sì. Vado al volo e vi mostro due minuti. In due minuti vi cambierò la vita. Quante automazioni. avreste dovuto fare. Ok, andiamo avanti. Questa roba vi cambia la vita. Perché se voi pensate... Io faccio riferimento soprattutto al mio essere sia musicista che sound designer, no? E quindi... Trovo una cosetta al volo. Molto leggera. E fin qui. Dice, vabbè, fai una cosa molto veloce. Eviti un sacco di... Ma... Un dito, eh. Un dito, eh. Adesso domandina. Quante note ho fatto? Ditemi un numero. È una. È una. Ok? E io avrò tutte le mie automazioni sulla mio DocuBase. Ok? Non era subdolo questo, eh. Perché, in realtà, dico Cubase perché c'è un motivo tecnico. È l'unico che ha un sistema di gestione in verticale dell'andamento dei grafici dei control change. Cioè, su le altre Do, quando noi abbiamo due notine MIDI, noi sappiamo che il pitch band è un controllo per canale, non per nota. Quindi, nel momento in cui io faccio due note e tiro su il pitch band con la levetta o con l'automazione, si sposteranno entrambe. Il nuovo MIDI non è più così. Ho spostato due note, una su e una in giù, una l'ho vibrata, una l'ho tenuta ferma, una l'ho vibrata e tenuta ferma l'altra. Questo significa, finalmente, multi-espressività. La multi-espressività è la chiave per questi nuovi strumenti qui, che vi mostro al volo. Audio Modeling è un'azienda italiana, collabora con Roli da tanto. In realtà, se comprate la loro app, troverete i violini e gli archi di Audio Modeling, che non sono fatti con i campioni. Sono fatti a modellazione fisica. Chiudo subito con... Volevo parlarvi di Spectral Layer. Questo è quello che succederà anche nel 2020. Uscirà un setup di studio monitor 5.1 LCR 2.1 con DSP esterno e con una nuova tecnologia brevettata da questa azienda che costantemente monitora il livello di usura dei Twitter, di tutta la componentistica. Ma soprattutto c'è un altro vantaggio. Quello che ascolti è un'altra storia. Abbiamo già il primo prototipo, il secondo prototipo in realtà attivo. Quei film di cui vi ho parlato prima e quelle serie TV, le ho missate con questi prototipi. E credetemi, l'intellegibilità delle microbande è come per un miope mettere gli occhiali. Ed è come la differenza fra i monitor HD ordinari e i 4K. Detto questo, io vi saluto perché abbiamo chiuso. Grazie di tutto. Grazie. 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 Grazie.